Buongiorno Roberto, Inter Bologna avverrebbe da dire si rialzi chi può, perché mi sembra una partita, insomma due squadre che negli ultimi tempi storie molto diverse, ambienti diversi, aspettative di campionato diverse, però entrambi sono percorsi di difficoltà in questo momento. Per quanto ci riguarda, che è la cosa che mi interessa, è chiaro che veniamo da due risultati consecutivi negativi, anche se è inutile stare a ripetere le solite cose, però è chiaro che vogliamo riscattare questi due risultati con Napoli e con la Fiorentina con una prestazione e un risultato positivo. Quindi andiamo lì con questa intenzione, con questa convinzione e vediamo poi quello che accadrà domani. È chiaro che troviamo una squadra che per un motivo o per l'altro ha tutti i suoi ragionamenti da fare, però non interessa quello che ci riguarda personalmente. Noi dobbiamo andare là e fare la nostra partita di carattere, di spessore, di temperamento e di personalità contro una squadra che ha grandissime individualità e che fino a poco tempo fa era una delle candidate a vincere il campionato. E adesso sta passando un momento di difficoltà, però vediamo di sfruttare anche questo tipo di circostanza, quindi è chiaro che ci vuole una prestazione di grande spessore. Ritieni che c'è un limite che pesa della tua squadra, secondo me più a livello di percezione, anche se è un dato di fatto. Il fatto che veramente da più di due anni, l'ultima fu a 6 gennaio di due anni fa a San Siro proprio col Milan, non riuscire a fare un colpo con una grande squadra non peserà sulla classifica perché i punti sono quelli lo scorso anno. Però ha un'incidenza psicologica sulle certezze dell'ambiente della squadra secondo me importante. È vero, fare risultato contro una grande squadra oltre a fare una buona prestazione è importante. Questa è una cosa che tutti quanti abbiamo bene in testa e sappiamo che cosa può significare. Però al tempo stesso non deve rimanere una ciliegina messa sulla torta così, giusto per poter dire che abbiamo fatto risultato anche contro una squadra che potenzialmente lotta per vincere il campionato. Ogni partita va interpretata in un certo modo. È il grande salto di qualità, lo ribadisco, il concetto come ho già detto nel recente passato. Non si tratta di affrontare una squadra importante con un atteggiamento piuttosto che una squadra di classifica diversa in un altro. Bisogna cercare di affrontare le partite sempre allo stesso modo, con la coscienza e la consapevolezza di quello che tu puoi fare. Che poi fa venire fuori una buona prestazione e magari anche un buon risultato contro una squadra forte e sicuramente ti dà molte più chance di vincere contro le squadre di pari livello o di livello inferiore. Per quanto riguarda la classifica. Questa è la grande maturità, questo è il grande salto che bisogna fare, il grande miglioramento, la grande crescita. Se no siamo sempre lì, ieri sera avete visto la Fiorentina che sicuramente ha fatto dal punto di vista prestazionale una partita diversa rispetto di impatto, di voglia, di velocità rispetto a quella che ha fatto contro di noi. Poi alla fine è venuto fuori un risultato che è venuto fuori, si può discutere finché si vuole. È chiaro che le grandi squadre hanno poi delle individualità che ti possono risolvere o fare la differenza, però l'atteggiamento deve essere quello. Sia che giochi contro l'Inter, sia che giochi contro il Benevento. È chiaro che se tu riesci ad avvicinarti quanto più possibile a questo tipo di obiettivo, migliori sono poi i risultati che ottieni. È possibile un ritorno alla fanteria leggera come quella vista a Napoli? Magari per sfruttare, visto che non è lo stesso tipo di partita, però comunque si pensa che sia più l'Inter a fare la partita. È possibile vedere in campo quelli che vedo che hanno voglia, che hanno grinta, determinazione, volontà di mostrare quello che sanno e vogliono fare. Chi mi dà questo tipo di sensazione è privilegiato, indubbiamente, senza volere togliere niente agli altri, però è giusto che sia così. Gente che ha entusiasmo, gente che ha voglia di fare, gente che è intraprendente, gente che sbaglia, però con questa coscienza e questa consapevolezza è sicuramente il privilegio. Sulla difesa, che nell'ultimo periodo ha preso molti gol, ed era una difesa che all'inizio dell'anno, nelle prime 12 partite, viaggiava quasi addirittura sotto il gol di media partita, mentre nell'ultima è 17 in 8. Che cosa è successo? Cioè, meccanismi cominciano a conoscervi? Prodezze dei singoli magari? Bisogna anche vedere un po'. Se guardiamo gli ultimi gol che abbiamo preso, a Napoli come abbiamo preso il gol, e con la Fiorentina lo stesso, non è una questione di difesa, è una questione di situazioni, dove una palla rinviata bene e magari non sbucciata ti possa far salvare il gol e non creare l'occasione all'avversario, oppure invece concretizzarsi come è successo. No, quindi il fatto che uno faccia gol sul calcio d'angolo, arrivi sul secondo palo e sbatta poi sul braccio del portiere, vada dentro, non c'entra niente con la difesa. Ci sono situazioni, ci sono sicuramente valutazioni da fare in questo senso. È indiscutibile che quando la squadra subisce meno in termini di gol, è perché la squadra si difende meglio in termini di squadra, e non in termini di reparto, perché poi qualcosa magari uno può incidere, come dire, un'ingenuità, un errore di valutazione da parte di un singolo c'è, ma se la squadra si muove ed è compatta, questa possibilità viene un po', come dire, meno, perché c'è comunque un giocatore vicino che può recuperare, che può darti una mano, che può essere di sostegno, e quindi è questo il ragionamento che va fatto. La squadra quando produce, è perché tutta la squadra segue, e costruisce, e accorce in avanti, e lo stesso modo vale viceversa, quando ci si deve difendere, e la palla ce l'hanno gli avversari. Quindi è tutto un discorso di squadra, secondo me, non tanto un discorso di difesa, che poi viene, come dire, elogiato nel momento in cui subisci poco, oppure viene un attimino criticata quando qualche gol di più entra. È tutto un discorso di gruppo, insieme. Situazioni di due singoli, come stanno Orsolini, come si sta inserendo, se un giocatore, certo non ne era stato fermo, veniva da una squadra dove comunque si allenava, se può essere già efficace per questa squadra, e Mattia invece, come sta, se è un po' in un periodo di flessione, rispetto a un mese fa? Per quanto riguarda Mattia, io lo vedo sempre sulla falsariga, di quello che è stato il suo andamento negli ultimi tempi, non è che sia cambiato molto. Io dico sempre, l'ho detto, l'ho ripetuto, e lo dico ancora oggi, che il suo è un discorso legato sempre alla determinazione in quello che fa, nella convinzione in quello che fa. Non è tanto il fare, ma è come lo fai. quando lui riesce ad avere un po' questa intensità, lui sicuramente è un giocatore al di sopra, della media nel suo ruolo, diversamente diventa uno come gli altri. Per quanto riguarda Orsolini, si è sempre allenato con la squadra con cui ha militato, è chiaro che non ha giocato molto, è uno che in termini di minutaggio ha fatto poco nell'Atalanta, però sta bene, ha voglia, è convinto, è determinato, quindi mi piace questo suo atteggiamento, quindi è sicuramente in lizza per guadagnarsi un posto nella partita. Volevo chiederti se continuerai a sperimentare moduli diversi, perché quest'anno hai già fatti due o tre, oppure se pensi di andare verso una soluzione un po' più stabile per dare qualche certezza? No, questo è un discorso che ho sentito anche domenica, non è questione di sperimentare, è questione di lavorare, si lavora durante l'anno, si fanno le cose, e quando le cose non funzionano bisogna anche pensare a qualcosa di diverso, e quindi nell'economia di una gara a volte le cose si modificano, si pensa di cambiarle perché possono dare frutti o migliorare un po' quello che è andamento, ma questo è un discorso che ormai i ragazzi e la squadra ha assimilato, che ha nel proprio bagagliaio, come si diceva una volta, e quindi non si tratta di inventare nulla di nuovo, si tratta solo di avere una squadra che ha conoscenza, che ha d'utilità nel sapersi modulare anche durante la partita, e questo accade per quanto riguarda un discorso tattico, e questo accade anche per i giocatori, perché quando tu hai 25-26 giocatori spesso si sente dire come mai non gioca Tizia, non gioca Caio, e spesso questo lo si sente dire quando magari i risultati non vengono, poi dopo quando i risultati non vengono, ma però forse se si insiste su un gruppo, cioè dobbiamo trovare sempre il compromesso giusto in queste cose, quindi questa è una squadra, è un gruppo affiatato, un gruppo unito, un gruppo che sa che cosa vuol dire lavorare e guadagnarsi e ritagliarsi spazio, e quindi di volta in volta io cerco di dare anche il giusto riconoscimento a tutto questo che loro cercano di fare, di svolgere, e mi auguro che tutti quanti siano protagonisti nei risultati, e questo accade purtroppo nel bene e nel male, ma non è che ogni volta che le cose van bene improvvisamente sono tutti diventati bravissimi e nel momento in cui i risultati non vengono invece c'è bisogno di trovare per forza qualcosa che non funziona in qualche giocatore, in qualche protagonista, non è così, dobbiamo essere compatti da questo punto di vista, abbiamo dei moduli tattici che sono abbastanza consolidati e questi ci hanno dato dei risultati e vediamo di portarlo avanti. In parte hai anticipato la seconda domanda, cioè il mercato ti ha lasciato una abbondanza diciamo dalla metà campo in su, come pensi di gestirla perché se lasci fuori di Francesco chiaramente penalizzi un investimento, se lasci fuori destro penalizzi un investimento? Beh ma gli investimenti sono stati fatti un po' nel passato, un po' nel presente, pensando che questa rosa diventi ancora più forte di quanto non lo sia stata, però al di là degli investimenti bisogna fare poi il conto con la realtà e la realtà vuol dire il quotidiano, il lavoro, l'impegno, la dedizione nel fare le cose e quindi tutte queste cose qui come ho detto un attimo fa vanno riconosciute e poi se una volta sta fuori Mattia destro o una volta sta fuori Di Francesco o una volta sta fuori o più di una volta sta fuori Craici questo purtroppo dispiace ma rientra nella logica delle cose non è che da questo poi debba nascere costantemente una situazione di come dire di contrasto di attrito di difficoltà lo sanno lo sanno benissimo loro è come quando a volte si vede un giocatore che esce dal campo esce contrariato io che sono il suo sostituto entro in campo faccio finta di niente ma poi finita la partita per come ragiono io lo prendo per le orecchie perché è una mancanza di rispetto soprattutto nei confronti del tuo compagno che entra no? non tanto nei confronti di qualcun altro ma semplicemente di un tuo collega che come te tutta la settimana lavora si impegna e non ha avuto la possibilità di entrare dal primo minuto quindi se alla fine gli dai 15-20 minuti in campo e tu non sei d'accordo su questo io che sono il tuo compagno alla fine della partita ti chiedo il perché il craici esterno di difesa che hai provato in partitella è una emergenza oppure stai pensando magari di cambiare qualcosa per riportarlo dentro? no 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 ci sono situazioni di allenamento dove a volte ci si adatta con qualcuno così come è successo con Chris a fare il centrale di difesa oppure con qualcun altro proprio per cercare di utilizzarli comunque non farli stare ai margini dall'allenamento facendogli fare anche qualcosa di diverso ma per continuare ad allenarli e mantenerli nel gruppo insomma ti chiedo quanto dovrete essere bravi a portare un po' San Siro dalla vostra parte nel senso che comunque in una situazione come questa dove non vincendo domani l'Inter farebbe un record storico in negativo può esserci anche un fattore ambientale da sfruttare sì anche questo è un aspetto è un aspetto però come dico sempre non sono i fattori esterni che ci devono portare a esprimere poi determinati valori no sicuramente il nostro modo di affrontare la gara il nostro impatto il nostro la vehemenza che ci metteremo in ogni singolo contrasto in ogni singolo taker farà in modo che poi il pubblico si può indirizzare in un modo piuttosto che nell'altro ma è semplicemente una conseguenza a quello che faremo noi il pubblico sarà semplicemente una conseguenza a quello che sapremo fare se noi aspettiamo che il pubblico trascini noi mi sembra che sia un paradosso questo succede fuori casa e succede in casa dobbiamo essere noi con il nostro atteggiamento con la nostra volontà il nostro modo di approcciarsi ad ogni singola situazione che poi trasforma un fischio in un applauso se siamo capaci a fare questo allora potremmo trarne anche dei benefici però dobbiamo avere ben chiaro questo concetto che tutto parte da noi e non parte da qualcun altro quanto cambia eventualmente ma questo lo puoi sapere forse oggi al massimo domani la preparazione della partita tra avere i Cardi davanti e avere Eder perché i Cardi ancora in dubbio addirittura pare che possa anche non esserci Eder in questo momento fa il suo sostituto ma non percorrono proprio le stesse tracce no è chiaro che sono due giocatori differenti uno è un giocatore che è prettamente più finalizzatore l'altro uno che collega molto di più il gioco con la squadra uno che dà meno riferimenti è chiaro che sono giocatori diversi da questo punto di vista uno è estremamente pericoloso negli ultimi metri anche se poi Eder ha fatto anche lui il gol però è più uno stoccatore i Cardi rispetto a quell'altro ma sappiamo sappiamo di queste loro qualità ma quello che voglio è avere ben chiaro i concetti che riguardano noi se siamo troppo preoccupati di quello che possono fare questi giocatori è chiaro che sei sempre un po' succube o soggetto di quello che può essere l'iniziativa dell'avversario invece io l'avversario voglio mi piacerebbe che fosse indotto a fare quello che voglio io e questo dipende dalla nostra intraprendenza indipendentemente dal fatto che giochi uno o l'altro chiaramente riconoscendo le capacità i valori che sono sicuramente da top player ti chiedo questo cosa si gioca secondo te il Bologna in queste ultime 15 partite che sono un pezzo importante di stagione e è vero che l'obiettivo principale è la salvezza sono d'accordo però credo che invece in realtà si giochi molto rileggendo la storia delle precedenti due stagioni ma non so questo poi lo farete voi siete molto più esperti e bravi di me in questo discorso mi interessa onestamente fare un ragionamento da qui a 15 partite o quante ne mancano alla fine mi interessa soltanto affrontare ogni gara e cercare di tirar fuori da ogni gara il meglio il massimo poi dopo non cambierà nulla da questo punto di vista intendo dire il mio pensiero la mia riflessione da qui a quel momento non modificherà nulla quindi sappiamo tutti e sapete voi meglio di me che cosa significa in termini di giudizio aver fatto un campionato piuttosto che un altro vincere una partita piuttosto che perderla quindi ormai siamo non vaccinati di più a tutte queste situazioni qui quindi credetemi è uno sforzo che non che non è tale è uno sforzo che non è tale perché ormai non sono oltre a questo tipo di considerazioni ma no perché voglio sminuire nessuno ci mancherebbe rispetto rispetto tutti quanti come giusto che sia perché ognuno ha il suo ruolo il suo compito però insomma la cosa peggiore per me è trovarmi a dover ragionare sempre allo stesso modo se io facessi oggi ancora gli stessi ragionamenti che facevo cinque anni fa in merito a tante situazioni vuol dire che sono limitato e non voglio essere uno limitato quindi non voglio pensare come ragionavo cinque anni fa in merito a qualsiasi situazione qualsiasi cosa possa accadere ma cerco di stare ben piantato e concentrato su quello che è il presente su quello che va fatto che deve essere fatto che deve essere migliorato e poi tutto il resto sarà semplicemente una conseguenza